D'è finita la minimia? Ciao a più, a Libano. Ho dato a Solerio. E chi cazzo è sto Solerio? È uno dei testacci. E che giri c'hanno? Ho trovato un nuovo spazio intorno a piramide. Ho destrozzo per qualche rapina ai posti. E in dove farebbero base? Ti ha detto quando fanno base, poi rispondi, eh? C'hanno un garage dietro il cazzone. Se ti dice bene, mi dò sta ancora là.